Rieccoci qui Alexandra da Palazzo Mezzanotte, ho qui con me un'altra ospite, Emanuela Angori che è Head of Corporate Internal Communication di Salini in Pregilo. Stavamo parlando anche prima con l'altro nostro ospite di questi Public Affairs Awards e a proposito di comunicazione in generale, la vostra è una multinazionale che quindi deve adattare la propria comunicazione a diversi contesti di mercato. Qual è la vostra strategia per declinarla anche in contesti tanto diversi? Sì, siamo una multinazionale che ha in questo momento all'attivo 100 progetti in corso in 50 paesi. Questo significa che abbiamo bisogno di una comunicazione corporate che si basi su un coordinamento centrale molto forte per avere una comunicazione allineata su quella che è la brand essence, per comunicare la brand essence a livello globale. Ma declinata su tutti i territori per tener conto delle culture locali, delle necessità locali e quindi abbiamo dei piani di comunicazione specifici su ciascun territorio che tengono conto appunto degli stakeholder locali, del linguaggio locale e di tutte quelle che sono le necessità di comunicazione di un gruppo così ampio. Infatti voi avete a che fare appunto non solo con location diverse ma anche con audience diverse per cui dialogate ad esempio nell'ambito anche della corporate diplomacy con realtà come istituzioni e governi. Ecco come si riesce a comunicare una realtà, un settore così tecnico come quello che appartiene Salini in Pregilo ad audience altrettanto diverse? Sì, noi in realtà ci siamo resi conto che comunicare questo settore poteva essere abbastanza sfidante proprio perché era un settore molto tecnico quindi dove è un po' difficile anche riuscire ad attirare l'attenzione. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di fare una comunicazione molto focalizzata su alcuni aspetti chiave, cioè una comunicazione basata su trasparenza, basata su accountability e basata soprattutto su un elemento umano più che tecnico. Quindi quello che raccontiamo non è tanto, raccontiamo sicuramente anche la complessità tecnica del progetto ma quello che raccontiamo è soprattutto la modalità con cui le persone che lavorano nei cantieri con passione realizzano questi progetti e li realizzano per permettere alle comunità locali di avere un end benefit. Quello che raccontiamo quindi è un po' la possibilità di raggiungere un sogno che è quello di disporre di, non so, metropolitane piuttosto che ponti, tutto ciò che ti permette di avere una vita migliore migliorando quindi la qualità della vita delle popolazioni e delle comunità in cui interveniamo. Quindi per una professionista come lei è comunque un settore che appunto come l'ha definito sfidante, le sfide piacciono a chi poi le riesce anche ad applicare. Io ringrazio nuovamente Emanuela Angori per essere stata qui con noi, per il momento da Palazzo Mezzanotte è tutto, cedo la linea allo studio. Grazie. Grazie.